Salve, ho ricevuto parecchie richieste da parte dei genitori sul funzionamento del portale Argo. Questo video quindi è destinato a quei genitori che magari per la prima volta accedono al portale Argo perché nella scuola frequentata dai propri figliuoli si utilizza questa piattaforma per condividere assenze, voti e quant'altro. Procediamo. Aprire innanzitutto il browser per navigare su internet. Io utilizzo Google Chrome. Voi potete utilizzare questo, Internet Explorer, Firefox o un altro browser. Per quanto Firefox e Google Chrome sono quelli che supportano meglio i programmi della piattaforma. Digitate all'interno del motore di ricerca portale Argo. E avrete presto a video una lista di siti che vi portano ad accedere alla piattaforma. Argo, registro elettronico e applicativi per la scuola. In fondo alla pagina troverete se sei genitore o alunni vai al portale per la famiglia. Clicca qui. Bene, io accedo con le credenziali che mi ha fornito gentilmente un genitore. Chiaramente saranno mascherate, però voi potrete prendere questi dati dalla lettera che vi ha consegnato la scuola al momento dell'iscrizione. Il codice della scuola solitamente è costituito da cinque lettere, di cui due lettere e tre numeri. La stessa cosa per il nome utente e la stessa cosa per la password. Potete prenderle dalla lettera. Al primo accesso vi verrà chiesto di modificare la password, cosa che io non potrò farvi vedere, però è molto semplice. Cioè basta seguire le istruzioni che vi appaiono e troverete subito il modo per poterlo fare. Quindi a un secondo accesso, una volta modificata la password, inserirete qui la password che avete modificato. La pagina che vi appare chiaramente contiene l'intestazione dell'alunno. Qualora aveste due figli che frequentano la stessa scuola, avete due account diversi con i dati della scuola. Sulla sinistra invece c'è un menu relativo alle applicazioni che potete minimizzare o espandere cliccando sulla voce interessata. Andiamo a vedere uno a uno queste voce. Servizi per l'alunno. Da questo menu è possibile vedere i dati dell'alunno, le tasse pagate, le assenze e i suoi voti. La prima schermata riguarda i dati anagrafici. Cliccando, appariranno i dati anagrafici che la scuola ha inserito relativamente al vostro figlio. Qualora fossero errati siete pregati di comunicarlo alla segreteria didattica. Seconda voce, il curriculum dell'alunno, cioè la classe in cui è stato scritto. In questo caso è un alunno di primo. Se vostro figlio avesse un percorso più lungo, li troverete tutti elencati qui, compresi il credito, la media dell'anno frequentato e l'esito se è stato promosso, bocciato. Tasse. Qualora la scuola abbia ricevuto degli importi pagati, qui risulteranno tutte le tasse che avete pagato per la frequenza della scuola. Questa finestra qui è vuota perché essendo un alunno che frequenta il primo anno, per legge non si pagano tasse. Assenze. Qui potete trovare tutte le assenze che ha effettuato l'alunno, sia come giorni di assenze, sia come uscite, sia come ritardi in ingresso, con il totale dei giorni e il totale dei ritardi. Qualora accanto ci sia questo simbolo, vuol dire che l'assenza è stata giustificata. Mi raccomando di tenere sotto controllo le assenze dei vostri figli, in quanto il totale delle assenze riportate qui si riferisce a giorni, mentre il conteggio delle ore è effettuato in ore. Quindi regolatevi in base a quante ore giornaliere svolgono di lezione i vostri figlioli, per avere un totale delle ore di assenza. Qui è possibile vedere i voti riportati in ogni materia dal ragazzo, con la data e un commento dell'insegnante, qualora ci sia. Note disciplinari. Se purtroppo vostro figlio ha avuto delle note disciplinari, le trovate tutte elencate qui. Questo è un alunno piuttosto vivace, diciamo in questo modo. Le note possono essere confermate per presa visione, cliccandoci sopra e premendo sul tasto presa visione, in modo da far conoscere alla scuola, al consiglio di classe, che il genitore è a conoscenza della nota riportata dal proprio figliolo. Voti dello scrutinio è attivo chiaramente nel caso in cui già si è svolto almeno uno scrutinio. Si ha la tabella con l'elenco dei voti e delle assenze riportate in ore da parte dell'alunno. Quindi qui potete anche fare un calcolo delle ore di assenza. Infine il curriculum per un'eventuale posizione lavorativa, dove trovate i dati personali, il tipo di istruzione che sta frequentando, la formazione, le lingue, eccetera, eccetera. E questo verrà compilato al momento in cui l'alunno lascerà la scuola. Questo per quanto riguarda i servizi per l'alunno. Servizi per la classe. Sono a disposizione una serie di servizi che riguardano l'orario della classe, i compiti assegnati alla classe e così via. Primo disegno, compiti assegnati. Quotidianamente risultano i compiti che sono stati assegnati al ragazzo. E quindi magari potete verificare se sono stati svolti tutti. L'argomento delle lezioni svolte in classe. L'orario della classe. I rappresentanti dei genitori e degli alunni della classe. Chiaramente è tutto materiale consultivo, cioè potete soltanto consultarlo e non modificarlo. Gli eletti al consiglio di istituto, in questo momento qui non ce ne sono perché la scuola non li ha ancora trasmessi. Ricevimento dei genitori. Mi soffermerò su questo argomento in un prossimo video. Docenti per classi. Il nome di tutti gli insegnanti del consiglio di classe. E eventuali promemoria inseriti dai docenti. Prossimo menu, documenti. Andiamo a vedere i documenti presenti nella bacheca della scuola. Sono dei messaggi che i professori dell'istituto inviano agli alunni in una bacheca generale. Cioè qui troverete i messaggi di tutti gli insegnanti della scuola. Mentre questo, eventualmente, sono dei documenti inviati personalmente all'alunno. Qui è possibile visionare il pagellino. Si può scegliere, è in questo momento solo primo quadrimestre. Si apre guardando, cliccando su questo link. Confermo. Si attende un attimino per la composizione della pagina. E viene scaricato nel mio browser qui sotto. Quindi ho la possibilità di aprirlo e vederlo. Quindi voi dovete spuntare per presa visione e confermare. Qui potete fare la stessa operazione fatta per il pagellino per quanto riguarda la scheda relativa alla religione o eventualmente alla materia alternativa che frequenta l'alunno. Quindi da qui la scaricate, presa visione e conferma presa visione. Condivisione con i docenti. In questa schermata è possibile inoltrare a uno dei docenti del consiglio di classe dei documenti. Indico questo perché questa sono io e so per certo che l'alunno mi ha inviato degli elaborati. E selezionandone uno è possibile scaricarlo con il download, modificarlo, oppure caricarne uno nuovo con upload. In un momento non lo faccio perché questo video è introduttivo, cioè ci fa vedere soltanto sommariamente quello che è possibile fare. Poi lo faremo meglio nel dettaglio, in un altro video. Utilità. Qui è possibile modificare la password qualora lo vogliate inserendo la password attuale e la nuova password inviando i nuovi dati. Questo è quanto riguarda una panoramica generale sul portale Argo per le famiglie. Svilupperò dei nuovi video in cui inserirò approfondimenti su quanto riguarda la prenotazione degli appuntamenti con gli insegnanti e come caricare dei documenti. Questo è tutto per il momento. Grazie per l'attenzione. Ci vediamo alla prossima.